Allora ragazzi, sapete a me cosa fa godere ancora di più di una vittoria? Più di un 5-1 al Milan, anzi di un 5-1 al Milan che poteva essere 7-8-1 Più di un 1-0 alla Juve che poteva essere 4-0 con molta tranquillità E' più di uno squiletto vinto in casa del Milan, quindi con uno stadio per tre quarti milanista Colore rosso-nero, colorato di rosso-nero Ecco, più di tutte queste cose ragazzi, della Supercoppa vinta con la Juve Tutto, tutto, la Champions con il Milan, la Supercoppa con il Milan Più di tutte queste cose mi piace godere ascoltando gli avversari parlare Quando io li sento, che si lamentano di tutte le cose, per me quella è una vittoria Ecco perché io, dicevo, ridiamo di loro E quindi vi invito ad iscrivervi al canale Grazie agli iscritti nuovi, che sono davvero tanti in questi ultimi giorni E grazie agli Juventini, perché un sacco di Juventini si stanno iscrivendo E mi stanno scrivendo proprio, sono Juventino, mi sono iscritto al tuo canale Queste sono le mie vittorie, perché questi sono gli Juventini Che capiscono che io non attacco lo Juventino A me lo Juventino è una persona come tutte le altre Perché qua ricordatevi che parliamo di calcio, non parliamo di guerra Parliamo di calcio Quindi io lo Juventino, il milanista normale, che sono il 99% Io li ammiro anche perché stanno passando un momento Diciamo a livello calcistico, perché è tragico Soprattutto il milan Anzi il milan E lo stanno affrontando da esseri umani che dicono Sì vabbè abbiamo perso però poi la vita va avanti Cioè capite domani vado a lavorare Lo stesso, o vinco o perdo vado a lavorare Mentre poi ci sono, e adesso ne parliamo Altri che non si rassegnano a dire la loro ogni giorno Quindi continuate ad iscrivervi, io agli interisti neanche li dovrei dire Iscrivetevi, dovrebbero farlo e basta Però se i Juventini, i milanisti hanno gusto a sentirmi Lo facciano Allora ragazzi No, io dicevo Cosa c'è di più bello Cos'è che ti fa godere più di una vittoria Il pensiero Cioè sentir parlare, sentir criticare qualsiasi cosa L'avversario però L'avversario è quello che deve sempre mettere zizzagna Quello che deve sempre parlare male di qualcosa Quello che se le cose non vanno bene a lui Vuol dire che è successo qualcosa E oggi parliamo di un personaggio Ormai ragazzi non faccio più nomi E quindi non sapete neanche di chi parlo Però chi l'ha ascoltato sa di chi stiamo parlando Perché molti di voi giustamente mi hanno detto Guarda che non sei tu Non sono loro a fare pubblicità a te Sei tu a fare pubblicità a loro E in effetti è vero ragazzi Pensandoci bene anche con gli amici Cioè questi altri non vogliono Che noi gli rispondiamo Facciamo i loro nomi Li citiamo nel titolo E allora basta Non succederà più Tranne se non succede qualcosa di grave Come è successo l'altro giorno E allora lì Però altrimenti basta Ogni giorno questi venivano citati E facevano il triplo delle visualizzazioni loro E poi io vado a vedere i loro video E vedo un sacco di commenti Di gente che commenta anche a me Non capite che così facendo Fate il loro gioco Non lo state capendo Questa cosa non la state capendo State facendo il loro gioco Non andate a scriverli Neanche ad insultarli Loro vogliono essere insultati E voi non lo state capendo Quando voi li insultate Voi secondo voi avete fatto una cosa buona Loro si mettono a ridere Dicono Mamma mia chi è al locco C'è cascato Capite? Non lasciateli perdere Lasciateli perdere Tutti Tutti I ventini e milanisti Così Gli altri no Gli altri andatevi a guardare Ci mancherebbe E allora C'è stato questo personaggio Che Questo fa la rassegna stampa La mattina Ogni giornale E dice Ci sono delle cose nel calcio Che non quadrano Non quadrano Ora Vedere un Capello E un Sacchi Che tra l'altro sono Suoi ex allenatori Che dicono C'è la domanda che gli hanno fatto Quale sarà la squadra Tra Inter Juve e Milan Che vincerà lo scudetto Tutti e due Guarda caso Hanno votato Inter Ehi ragazzi Guarda caso Hanno votato Inter Cioè nel senso Una persona Che usa il cervello Allo 0,5% Del potenziale Direbbe Inter Direbbe Inter Quindi Capello e Sacchi Altro non hanno fatto Che Dire quello che è La normalità E non solo Non solo Cioè Finché si fossero limitati A dire questo La cosa che gli ha dato Ancora più fastidio È stato Che L'Inter Non solo vincerà lo scudetto Ma sarà Una lepre Di nuovo Cioè L'Inter A un certo punto Prenderà vantaggio E Juve e Milan Dovranno Inseguire Ma così Inseguire Cioè giocarsi il secondo posto Ecco questo Volevamo dire Ma ragazzi Qualunque persona Oggi direbbe Questa cosa qui Anche chi Non è interista Ma Poi C'è stata un'altra cosa C'è stata un'altra cosa Dice Poi L'Inter È più forte Del Milan Ma stai scherzando Cioè Scusate l'Inter La Juventus Dicono che è più forte Del Milan Ma stai scherzando Cioè la Juventus È il doppio Del Milan Attualmente Attualmente La Juventus Al Milan Gli dà 4 gol E La Juve di oggi La Juve di oggi Con il Milan Non c'entra niente Il Milan Abbiamo visto Tutti Tutti abbiamo visto Tutta l'Italia Ha visto Tutti i limiti Del Milan Quanti limiti Ha il Milan Troppi limiti I troppi limiti Che ha il Milan Quindi stiamo parlando Di niente Quindi A questi personaggi Dà fastidio Che un'altra persona Dia un parere Che va però Contro la sua squadra Oggi il Milan Purtroppo E lo dico con rammatico Vi dico Io Il Milan Non è una squadra A me è antipatica Il Milan Oggi È una squadra Che non fa paura Paura a nessuno È una squadra Che quando gioca Contro Il Squadre Contro il Verona Contro l'Empoli Quelli Non percepiscono Il Milan Come lo percepivano L'anno scorso Due anni fa Tre anni fa Cinque anni fa Venti anni fa Percepiscono Una squadra Che si può battere Mentre quando giochi Con l'Inter Dannono Per scontato La sconfitta E poi Se dovesse uscire Qualche cosa Sarebbe un miracolo Contro il Milan No Contro il Milan Vanno per vincere Entrano in campo Per vincere Si è visto Come ha giocato Il Torino Contro il Milan Si è visto Come ha giocato Il Palma Contro il Milan Si è visto Come ha giocato La Lazio Contro il Milan Avviso aperto Non si sono chiusi Il Torino È andato a Milano Non si è chiuso in difesa Si è giocato la partita Perché Ha capito Di avere davanti Una squadra Che Si poteva Battere tranquillamente E infatti Stava vincendo 2 a 0 Capita ragazzi Che voglio dire Il Milan di oggi È una squadra Purtroppo Dico Perché mi dispiace Per i milanisti Che sono tantissimi E purtroppo Non è all'altezza Dell'Inter Ma neanche della Juve Neanche della Juve La Juve di oggi È il doppio Più forte Dell'Inter A me dispiace Ragazzi È così però È così Oggi La Juve È molto più forte Del Del È inutile prendersela Se qualcuno dice Che l'Inter Sarà la lepre La Juve Il Milan Dovranno Dovranno Inseguirla Io Come a voi Anzi Come a lui A questo che si lamenta Cercherei Prima di Cercare di raggiungere I quattro Diciamo Le prime quattro posizioni Poi parlerei Perché io oggi Ad oggi Non so Neanche se il Milan Sarà Diciamo Una squadra In grado Di raggiungere Le prime quattro posizioni Così come È messo oggi Ciao